Sono Gloria Truppi e sono una toletatrice, ho un punto vendita, un pet shop. Ho scelto di partecipare al corso Wedding Dog Seat perché ho visto Elisa in un matrimonio e da lì sono rimasta affascinata e quindi non ho potuto fare altro che cercare la strada giusta per poter essere in questa giornata e nel corso. Il corso mi ha aiutato a capire come questo, oltre ad essere una professione scinofila, sia un lavoro a tutti gli effetti impegnativo, bello, con emozioni sicuramente, dove prevede una responsabilità notevole. Mi ha aiutato a capire molto, molto che da fuori non si vede. Le mie aspettative per questo corso erano alte ma non così alte come poi si sono rivelate perché è stato trasmesso molto, molto di più di quello che io mi aspettavo. Il valore aggiunto è che mi porterò sicuramente a casa un bagaglio che non mi aspettavo e mi è piaciuto di più molto l'affiatamento che ho trovato in questa family, il modo in cui vengono trasmesse le informazioni e l'importanza di tutto quello che gira dietro a una giornata di matrimonio. La responsabilità e l'emozione sicuramente che siete riusciti a trasmettermi. Penso che questo corso sia fondamentale sia per chi lavora già e sia per chi inizia perché in entrambi i casi riesce a trasmettere delle finezze, chiamiamole così, che sinceramente noi professionisti scinofili nel nostro quotidiano non è che non abbiamo ma ci serve quel qualcosa in più che ci porta a vederle. Quindi è importantissimo. No, sinceramente, onestamente no. Mi aspettavo sicuramente che questa professione fosse impegnativa ma tutta la struttura che c'è dietro non me l'aspettavo. L'aspettativa di questo corso era rendere me stessa cosciente. L'avete superata la grande perché ho acquisito tantissime informazioni e finezze che non avevo. Secondo me questo corso è adatto in entrambi i casi. Anzi, lo consiglierei a tutti. Lo consiglio a tutti. Professionisti scinofili. Consiglierei il corso alla mia categoria, che sono i toalettatori, a tutti gli addestratori perché, ripeto, c'è riuscito a trasmettere quel qualcosa in più che nei nostri corsi di categoria non abbiamo. Quindi sì, lo consiglierei.